Regione Marche e Marina Militare hanno firmato un accordo di collaborazione per l'attuazione del piano di azione della strategia della macro-regione adriatico-ionica. L'intesa riguarda l'avvio di iniziative comuni nel settore marittimo. Crescita sostenibile dell'economia marina e marittima, economia blu, trasporti, energia, sicurezza, protezione dell'ambiente marino e turismo sostenibile. L'accordo è stato siglato al comando delle scuole della marina militare di Ancona dall'ammiraglio di squadra Salvatore Ruzzittu e dall'assessore regionale Paola Giorgi. I settori disciplinati dall'accordo di collaborazione sono destinati a svolgere un ruolo cruciale per la creazione di posti di lavoro e il rilancio dell'economia regionale. Nell'ambito della cooperazione delineata dalla strategia macro-regionale, Regione e Marina hanno individuato aree di comune interesse relative alle questioni marittime. Settori che coinvolgono la formazione, l'istruzione, l'educazione digitale, la difesa cibernetica, la cultura del mare e lo sport, la ricerca, l'innovazione, la progettazione, l'industria, la salvaguardia ambientale, la sicurezza marittima, la tutela del territorio e del mare. Collaborazioni che coinvolgeranno i distretti tecnologici regionali, le grandi e le piccole e medie imprese, gli enti di ricerca, Università e Centro Nazionale di Ricerca, le istituzioni regionali, le organizzazioni governative e non. In base al codice dell'ordinamento militare, le forze armate forniscono il proprio contributo nei campi della pubblica utilità, tra i quali rientrano anche gli interventi sull'ambiente marino, il monitoraggio delle acque, le attività di ricerca ambientale marina.